Io sono impegnato anche col teatro, quindi farò degli spettacoli con Ronconi la prossima stagione a Milano, ma credo che sia importante sottolineare il fatto che ci siano dei giovani che credono in questo lavoro e lo fanno in un certo modo, perché oggi c'è molto questa tendenza all'approssimazione, tutti sono attori, invece no, secondo me ci sono degli attori, anche giovani, che arrivano a dei risultati perché hanno fatto un percorso e quindi è importante sottolineare questa cosa. E per Daniele credo una doppia soddisfazione, insomma il premio per un film, ma anche un premio per un attore che abbiamo anche scoperto grazie a lui. Sicuramente io, intanto ringrazio il festival, Barbera, tutti coloro che mi hanno selezionato e ci hanno selezionato questo festival, ringrazio il Ray Cinema che mi ha dato la possibilità anche di far vedere Fabrizio Falco e quindi di poter fare il mio film attraverso le immagini e quindi questa è una grande soddisfazione. Io sono abbastanza contento perché quando Fabrizio mi è stato proposto, io non nego che non ero convinto, mi arrivò lui e non vedevo Palermo, anche se è di Palermo, non sentivo quella forza. Allora il mio aiuto regista, il mio arrizio è Lucila Cristalli, mi disse, ma guarda che sicuramente lui ce la fa perché sente questa cosa, vuole ritornare a Palermo. Ho detto, vabbè, portatelo, lo ho portato al giudizio e poi ho visto che veramente sentiva, come l'ha sentito anche Tony Servillo, perché era un estraneo nel mio mondo, nel mio modo di vederele, e sono rimasto molto contento e è una grande soddisfazione perché quando lo vide Marco Bellocchio lo ha voluto anche nel suo film. Insomma, ho dato un contributo ai giovani autori, attori e come... E quindi niente, sono abbastanza contento di rappresentare loro, la mia immagine che erano loro, ho bisogno di persone che mi evocassero Palermo e quindi ce l'ha... Fabrizio ce l'ha fatta. Diciamo che all'interno del film di Daniele il personaggio di Tancredi ha, insomma, questo aspetto racconta molto, pur essendo, diciamo, magari può sembrare una prima visione, magari molto silenzioso, ma in realtà racconta tanto di Palermo, diciamo, di quell'anello debole rispetto a una famiglia, insomma, che ha dei valori sballati, ecco, insomma, quindi anche se era un personaggio molto remissivo, silenzioso, insomma, racconta tanto, quindi non è una limitazione, anzi, puoi lavorare su delle sfumature diverse, da quelle canoniche, diciamo, che possono essere... No, ma scusami se mi permetto di introdurmi, perché la cosa che io ho sempre detto è proprio il silenzio che si vede l'attore. Cioè, l'attore che nel silenzio ti dà l'emozione e quindi in questo caso credo che l'esame con la macchina da presa, Fabrizio, mi sono permesso di... Assolutamente. Anche se non faccio l'attore, però sicuramente quello è il meccanismo migliore per riconoscere un attore, per poi sia di teatro, di cinema, l'importante è innamorarsi della macchina da presa, controllarla, guardarla, venerla pure nell'ombra, senza guardare, senza farci caso. E lui è riuscito ad avere... è un complimento, no, perché è qua davanti, perché io poi lo schiaffi fuori, come io l'ho dato nel film. Ecco, ha fatto un esordio meraviglioso, con un tempo lato. Quindi, da questo punto di vista, nel silenzio lui è stato... Però, appunto, riallacciandomi a quello che ha detto Daniele, questo aspetto del, diciamo, del personaggio silenzioso, ecco, mi ha aiutato a prendere confidenza anche col mezzo cinematografico, perché era la prima esperienza. Quindi, questo fatto mi ha aiutato proprio piano piano, sono entrato nella cosa. E quindi, quando poi ho affrontato l'altro personaggio di Pipino, nel personaggio del film di Bellocchio, insomma, mi sono... Cioè, avevo già un'esperienza di conoscenza, ecco, con la macchina da presa. Quindi, è stato un percorso diverso, però... importante. Ecco, basta. Grazie.